Assessore con Delega al Cimitero Giuseppe Speranza, perché quest'anno c'è un aumento delle tariffe per i servizi cimiteriali? Giusto perché quest'anno, perché era da cinque anni che le tariffe non erano adeguate, in quanto il regolamento cimiteriale, precisamente l'articolo 150, impone l'adeguamento in base allo scatto ISTAT annuale. Per cinque anni le tariffe non sono state adeguate, ma seppur sono state adeguate, scusate il besticcio di parole, sono state adeguate di poco. Tenuto conto che i vicini comuni, faccio per dire tra l'annoziata e il colano, le tariffe per i servizi cimiteriali sono di gran lunga superiori, già da alcuni anni. Quindi vale a dire che lo scatto ISTAT, dopo cinque anni, ha permesso un miglioramento, se di miglioramento possiamo parlare, alle tariffe dei servizi cimiteriali. Parliamo di aumenti minimi, non di aumenti considerevoli? Aumenti minimi ma obbligatori, in quanto se non ci fossimo adeguati, saremmo in corso nella Corte dei Conti. La Corte dei Conti controlla se le amministrazioni locali adeguano o meno ogni tipo di tariffe, ogni tipo di introito. Saremmo in corso nel reato di omissione di incasso e di introito. In questo caso la Corte dei Conti si rivale direttamente sulla parte politica, cioè sull'amministratore, non sull'ufficio o sul comune. Ciao!